Ma guardate da troppo l'aria di essere un film di zombie Guardate Mio dio aiuto aiuto mi stanno mangiando E ancora una volta ciao ragazzi eccoci tornati in un nuovo video di Dying Light Spero si conosci così Come vedete ho le armi più leggendari del mondo visto che ho giocato online e le ho scambiate Ho una carabina senza colpi Una pistola 9mm tutta destra con 6 munizioni Una falce Il contestabile o contestibile Poi ho un martello da mattone Una piccozza rotta Vediamo quanto male Oddio non fa un cavolo Invece guardate questa qui avevo già fatto Eh l'avevo già fatto il video Ma questo non sarà un video uguale agli altri Questo sarà un super Caccio No no vediamo dove ci sono quelli di runner Quelli che corrono No sconfiggiamo questi Super zombie giganti Che chiamerà il video Ho avuto Se ci sono benvenuto Anche dettagli i試 Bran Ad esserci Io poi Allora in volo Questa cura Visto che ce l'ho Il kit medico Salto Oh no È un video Si è sempp坂 Ecco Oddio non aveva più un braccio C lima Caccio No, da dietro Sei in pane John Cena No, non mi viene più, ho aspettato Ho perso l'abilità John Cena, no Salta e... no, com'è Salta e salta Va bene Aspettate che... No, ok, ce l'ho fatto Guarda come senti di colpire Che colpire, non ci riesci Hai bisogno di tante coccole Aspettate che arrivo a dartelo Oh, come senti? Ah, da là in alto Che fatica, salva Adesso vado dal mio piccolino E gli do tante coccoline Ah, guarda chi c'è No Eh Volevi Eh, questo è così No Ah, what the Guarda, mi sono ucciso da sole Ottimo Già morto Guardate che arma Questa cosa è un bordello più fortelloso Sai, mi sorge un piccolo dubbio Come esco Spero così Ok Ok C'è tutto qua Tre colpi Oh, cos'è Ah, ma chi se ne frega C'è un momento in pericolo Ah no Sono di uomo naturalissimo Tanto non vedo niente Guardate Li ho già ammazzati Quasi No Tu che armavelli Martello semplice Non me ne faccio niente Il cozzo è rotto Non ce l'ho già Te che armavelli Erano solo No, spero, allora te che armavelli No, va bene Sono preso E meno male, eh Ti ho anche aiutato Allora Non mi metto Della porta Sì Già fai Oh, grazie Ci dici Non vedo l'ora che ti mangi Guarda, guarda, guarda Guardalo Oh, forza Anche a me Oh, oh Eh, devo andare a scuola Ma che cazzo Ti ha basso Ma io c'è Perfetto Allora Beh, guardarsi sempre Le spalle Durante un apocalisse No Sei morto Non stavo facendo cose strane Perché ho sbloccato una nuova abilità No Ok, ho sbloccato una nuova abilità Che quando uno zombie atterra Mi posso schiacciare la faccia Stai in un colpo Oh, ho un'idea, ho un'idea Proviamo una super nuova arma Barra pesante Al posto del martello Ok, non è l'arma forte Muori, va Con le tette all'arma Che figata di mossa Avete visto? Mi sono saltato No Tipo c'è uno zombie Mi posso correre sopra e volare Non sapevo di averla sboccata Vediamo No, no, no Sbogliate, sbogliate No Io ho fatto John Sinai Cos'è che viene? Comunque si faceva Speck curati Non è un kit medico Ma lo faccio Ok, meno male Poi Cosa possiamo creare? Bello Razino Shuriken Bustonanti Esplosivo E' bello Equipaggiamoli Belice Saluto Jombi Gogo Aia Curati Curati Oh Yes No No Oh, cavolo. Questo video lo intitolerò zombie gigante. Aspetta, soffrire. Di solito in quelle delle polizie c'è un sacco di cose. Per cui non ce ne ho entrare. Via, strappiamo un'altra breve camminando sul cuocco come se è molte di live. Quanto sono fatti di shuriken? Oh, no. Tu che sbranavi te lì a terra, eh? Io che mi sbranavo io. Credo non ci siano più insomma. Ah, ok. Una gamba che flutte. Scivolata senza motivo. No, ma io voglio risaltare di nuovo sui con un zombie. Oh, posso aprirci? C'è un virale pericoloso che mi serve. Aspetta, avrei potuto usare una mossa figa. Aspetta. Sali, 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 sali. No, non me la faccio usare. Era una mossa tipo di schiacciare la testa. Oh, questa mossa. No, ti ho messo a vedere. Ah, si è salita. Si è salita. No, ti ho messo a vedere già. Troppo facile. Il rifugio c'è qui? Ah, il camper. io mi ammazzo più a cadere nei rifiuti ciao spa e dove è finito spike vabbè però non posso farlo esplodere beh cosa c'è qui no è dall'altra parte c'è qualcuno nella scuola i nostri esploratori hanno visto delle persone entrare nell'edificio ok non posso fare niente e io direi che qui in compagnia del nostro amico strambo insomma è tutto fatevela prendere bene ciao